Benvenuti a Punto Europa, l'appuntamento settimanale con l'informazione a cura della delegazione del Partito Democratico nel gruppo dei socialisti democratici al Parlamento europeo, che questa settimana si è riunito a Strasburgo in seduta plenaria. Dopo mesi di discussioni il Parlamento ha evitato il rischio di un blocco finanziario dell'Unione europea, approvando il quadro finanziario pluriennale per i prossimi sette anni. Al centro dell'accordo firmato con i capi di Stato e di governo dell'UE troviamo nuove risorse per la lotta alla disoccupazione giovanile, una gestione più razionale dei programmi comunitari e ampie riforme sia della politica di coesione che della politica agricola comune. Patrizia Toia è intervenuta nel corso del dibattito. Un grande economista italiano e un grande europeista, Tommaso Padoaschiopa, diceva agli Stati il rigore, all'Europa la crescita, nella convinzione che l'Europa può davvero fare ciò che gli Stati oggi non riescono più da soli a fare, mettere in moto crescita e sviluppo. E noi sappiamo però che con questo bilancio, se siamo seri, e credo che lo pensi anche il Consiglio, lo sappia, spero che sia consapevole, con questo bilancio noi non otterremo questo risultato. Ed è molto grave, l'hanno detto i colleghi, che nella crisi peggiore che l'Europa conosca, proprio in questa crisi peggiore, che colpisce il lavoro, non solo l'economia reale, ma i lavoratori, noi non siamo stati in grado di fare la nostra parte. Ed è la prima volta che disinvestiamo, riduciamo i nostri investimenti, la nostra capacità di intervento. Per oggi noi siamo di fronte a una strada che non ci lascia troppe vie di uscita, o prendere o lasciare. Questa è la strada che si trova oggi di fronte al Consiglio, il Parlamento. Noi sappiamo le responsabilità, un Consiglio dove piccole convenienze si sono accordate, ciascuno ha preso qualcosa e così si è chiuso. Il Parlamento invece ha fatto la sua parte. Io ringrazio i colleghi relatori, ringrazio il Presidente Schultz convintamente, ringrazio i colleghi del mio gruppo. Qualcosa è cambiato e qualcosa è migliorato. Partire da quella clausola di revisione che ci permetterà davvero, per chi sarà in questo Parlamento fin dal primo giorno, di cambiare qualcosa, di cambiare il possibile. E finisco dicendo che ci sono cose che ci sono veramente difficili da accettare in questo bilancio, in questo pacchetto. Il tema delle risorse proprie e il tema della macro-condizionalità. macro-condizionalità non aiuta gli stati in difficoltà. È inutile e dannosa. Ed è incredibile che l'Europa si ostini ancora, anche con questa macro-condizionalità, presentarsi come l'Europa delle sanzioni, l'Europa delle diminuzioni, delle colpe, dell'interruzione dei pagamenti, invece che essere l'Europa del sostegno, dell'aiuto, soprattutto verso i paesi più in difficoltà. Il Fondo Sociale Europeo e il Fondo di Coesione sono due fra gli strumenti comunitari più noti e utilizzati. Grazie ad essi sono stati finanziati progetti innovativi in tutta Europa e per molte regioni rappresentano una delle poche fonti di finanziamento in questo periodo di crisi. Con l'approvazione del quadro finanziario pluriannale, anche la politica di coesione è stata riformata, inserendo nuove clausole da molti ritenuti eccessivamente punitive e votate a una politica di cieca austerità. La delegazione del Partito Democratico, con Salvatore Caron, Andrea Cozzolino e Francesco De Angelis, è intervenuta in aula per opporsi alla proposta. E in particolare per difendere il diritto delle regioni a ricevere finanziamenti, anche se l'economia nazionale sta vivendo una situazione di difficoltà finanziaria. Non c'è dubbio che siano molti gli aspetti positivi in questa nuova politica di coesione, dal fatto che si produca una certa semplificazione, non mai sufficiente, ma un impegno in questa direzione c'è, che ci si orienti più sui risultati che sulle procedure, che ci sia stata una maggiore concentrazione tematica, che vi sia anche una maggiore integrazione tra i vari fondi a disposizione. Tuttavia non c'è ombra di dubbio, e su questo non si sfugge, che l'aver voluto a tutti i costi mantenere la condizione macroeconomica e di non aver fatto nessun passo significativo per quello che riguarda lo scorporo degli investimenti dalla disciplina di bilancio, ripropongono un'idea ideologica di una certa impostazione d'Europa che ha già prodotto molti danni e che ci fa dire che saremo molto critici su questo compromesso raggiunto. Sì, colgo l'occasione, più per entrare nel merito di una discussione, ormai ci accompagna all'ultimo anno e mezzo, per segnalare alla Presidenza dell'Assemblea, ai capi gruppo che potranno ascoltarci, che si sta consumando un errore serio in queste ore qui in quest'Aula. Impedire di votare e argomentare un dissenso su due punti assolutamente decisivi ai fini del lavoro positivo che si è svolto finora. La questione della macro-condizionalità e la questione posta dalla Commissione Empri sul Fondo Sociale Europeo per cavilli burocratici e regolamentari e impedire l'espressione di un dissenso su questo renderà il confronto tra di noi assai più complicato, portando intere delegazioni, delegazioni anche importanti, che si avvantaggiano di queste politiche, che sono sostenitrici di queste politiche, che hanno lavorato in questi anni nelle Commissioni per riformarle queste politiche a dare un voto contrario sull'intero pacchetto. La politica di coesione rappresenterà nei prossimi sette anni uno strumento importante per la crescita e per lo sviluppo. Io credo positivo il lavoro che è stato fatto nei diversi regolamenti. Penso ad esempio alla questione dello snellimento, semplificazione, facilitare l'accesso all'utilizzo dei fondi strutturali, penso alla questione della governance. Insomma, ci sono questioni importanti dalla semplificazione alla velocizzazione delle procedure di spesa, al buon utilizzo delle risorse comunitarie che considero un fatto positivo. Resta però la questione della macro-condizionalità. Ecco, su questa questione resta forte la nostra critica, perché questa norma rappresenta un vincolo, un vincolo che non aiuta e non facilita l'utilizzo dei fondi strutturali, rappresenta un freno e rappresenta soprattutto l'Europa del rigore e dell'austerità. Noi invece vogliamo l'Europa della crescita, dello sviluppo del lavoro e soprattutto dell'occupazione per i più giovani. Grazie. La politica agricola comune, creata col nascere della comunità europea, necessitava di aggiornamenti normativi. Maggiore efficienza nell'uso delle risorse, incentivi all'uso di tecnologie moderne e nuovi aiuti ai piccoli agricoltori sono stati i punti che hanno guidato l'intero percorso legislativo condotto da Paolo De Castro, Presidente della Commissione Agricoltura. Sentiamo il suo intervento in aula. Dopo oltre due anni di lavoro, siamo giunti finalmente ad approvare la nuova politica agricola comune per i prossimi sette anni. La nostra istituzione non ha rappresentato, come molti inizialmente credevano, una complicazione nella procedura, bensì un valore aggiunto in termini di democrazia e di sintesi, riuscendo a dare ai 28 Paesi dell'Unione una sola politica agricola che dia risposte alle così diverse agricolture europee. Voglio sottolineare che nell'ultima fase siamo riusciti a imporre al Consiglio di negoziare anche quei temi legati all'accordo sulle prospettive finanziarie, quei temi che i Capi di Stato e di Governo avevano in maniera arbitraria inserito nella famosa negotiation box. Un successo per il Parlamento che potrà essere un precedente per non permettere più che il Consiglio sottragga dei temi alla normale procedura ordinaria. È una questione di legittimità democratica e di rispetto dei trattati. E in ultima cosa, nei prossimi mesi questo Parlamento e in particolare la Commissione Agricoltura vigileranno con attenzione sulla Commissione europea affinché nella stesura degli atti delegati applicativi della PAC sia rispettato l'accordo politico che così faticosamente Consiglio, Parlamento e Commissione hanno raggiunto. La riforma dei programmi relativi alle industrie culturali e creative era attesa da molti professionisti del settore. Maggiori tutele per i prodotti artistici europei, nuovi fondi e un approccio basato sul valore della cultura come componente trasversale di ogni politica. Sono questi pilastri su cui si baserà il programma Europa Creativa, erede di media e di tutti gli altri progetti culturali finanziati dall'Unione. Silvia Costa è stata relatrice del provvedimento, sentiamo la sua presentazione durante il dibattito in aula. Presidente, commissaria, credo che il nuovo programma Europa Creativa, nel testo che il Parlamento ha licenziato alla luce di un lungo negoziato con la Commissione e il Consiglio apra una nuova fase nelle politiche europee rivolte a tutelare e valorizzare la diversità culturale e linguistica, promuovere il patrimonio culturale, materiale e immateriale, ma anche rendere più competitiva l'industria culturale e audiovisiva europea. Un equilibrio fra questi due aspetti fortemente voluto dal Parlamento, in nome della natura duale della cultura, che è un valore intrinseco ma anche un comparto economico, senza cui la crescita non sarà né intelligente né inclusiva né sostenibile. I settori che negli ultimi vent'anni hanno trovato efficace sostegno in tre distinti programmi europei, media, media mundus e cultura, sono raccolti in un unico programma, ma grazie anche al lavoro del Parlamento mantengono autonomia di brand, budget, misure specifiche, pur accogliendo lo strand transettoriale in cui abbiamo meglio definito il nuovo strumento finanziario di garanzia affidato al FEI, che affiancherà i grants e sosterrà i prestiti degli istituti finanziari nazionali sulla base di portfolio specificatamente individuati per questi settori, incoraggiando così maggiore disponibilità e competenze del sistema accreditizio europeo nei prossimi sette anni. Le sfide che i settori della cultura, della creatività e dell'audiovisivo devono affrontare sono comuni ai 14 settori inclusi in Europa Creativa e sono la frammentazione del mercato, la sottocapitalizzazione, la mancanza di dati comparabili, la digitalizzazione e lo sviluppo del pubblico. Europa Creativa contribuisce ad affrontare questi nodi e avvia soluzioni alla luce di un valore aggiunto europeo che rafforzi le imprese e allarghi l'opportunità dei nostri artisti e creativi e delle loro opere, della loro circolazione. Le infrastrutture di collegamento sono fondamentali per il recupero della competitività europea, dall'elettricità alle ferrovie, passando per dati e telecomunicazioni, il pacchetto Connecting Europe traccia la nuova mappa delle infrastrutture europee, disegnando le autostrade fisiche ed informatiche del futuro. David Sassoli e Mario Pirillo sono intervenuti in aula, sentiamoli. Grazie Presidente, arriviamo a votare in aula il testo sulla rete transeuropea dei trasporti e ringrazio in primo luogo i relatori per il lavoro che hanno svolto. Sono convinto che dobbiamo continuare nella direzione degli investimenti, che sono la misura fondamentale della ripresa economica e la risposta alle politiche di austerity. Guardando al mio Paese, l'Italia, sono convinto che lo sviluppo dei corridoi alpini sarà di grande aiuto per il passaggio da Ovest all'Est europeo, sia per quanto riguarda il trasporto su strada che su rotaia. Dispiace invece dover constatare l'atteggiamento di chiusura della Commissione sull'inclusione per quanto riguarda l'Italia del porto di Civitavecchia nella rete centrale. Dispiace perché stiamo parlando del porto di Roma, che è la capitale del nostro Paese. Avrebbe tutti i requisiti in termini di transito, merci e passeggeri per poter essere incluso nella lista presentata dalla Commissione. Uno dei motivi eccepiti per il mancato accoglimento di questa richiesta è legato alla distanza del porto dalla città, non tenendo conto però che il porto di Civitavecchia forma un'unica autorità portuale con i porti di Fiumicino e Gaeta. Ciò potrebbe rappresentare invece un punto di forza nella suddivisione delle competenze, delle attività portuali. Il meccanismo per collegare l'Europa è lo strumento strategico della programmazione finanziaria 2014-2020 nel campo dell'energia, delle telecomunicazioni e delle reti transeuropee dei trasporti, le quali attraverso i corridoi hanno creato grandi attese anche nel sud del mio Paese per l'ammodernamento delle reti ferroviarie e per avviare finalmente l'alta velocità. Non si può nascondere l'amarezza per il taglio al bilancio comunitario per il CEF di quasi 21 miliardi di euro che ne limita la portata degli interventi soprattutto nel settore delle telecomunicazioni. Per sopperire alla riduzione delle risorse finanziarie il testo di compromesso prevede un migliore utilizzo degli strumenti finanziari nel settore dell'energia per il meno il 20-30% con la previsione, dato il minore utilizzo previsto da parte dei settori dei trasporti e delle telecomunicazioni di raggiungere circa il 50% della dotazione a disposizione. Sono soddisfatto per le priorità individuate per l'allocazione dei fondi. Si è eseguita la posizione del Parlamento europeo che chiedeva maggiore attenzione ai progetti di riduzione delle isole energetiche e di destinare almeno il 75% delle risorse per le infrastrutture elettriche. La questione della doppia sede del Parlamento europeo si trascina da decenni e ancora oggi suscita reazioni contrastanti e spesso opposte. Da un lato la città di Strasburgo rappresenta simbolicamente la pacificazione franco-tedesca dall'altro i continui spostamenti di deputati e funzionari si stanno trasformando in un anacronismo sempre più difficile da giustificare davanti a un'opinione pubblica sempre meno propensa ad accettare le eccentricità della politica. Sergio Cofferati è intervenuto durante il dibattito. Sentiamo. Al di là dei numeri che sono tutti verificabili è evidente che l'attuale assetto delle sedi delle istituzioni europee è privo di razionalità deve essere superato rapidamente per ragioni finanziarie, ambientali, economiche, logistiche. Credo che non valga la pena però di agitare tra i temi che dovrebbero portare all'indicazione di una sede unica. poi vedremo quale deve essere il fatto che anche noi abbiamo delle difficoltà e dei disagi. Non credo che questo sia significativo per i cittadini europei. Siamo chiamati a rappresentarli anche facendoci carico di queste difficoltà oggettive. Penso che sia molto importante invece considerare il fatto che in una crisi così pesante e così lunga i cittadini non accettano più i costi esorbitanti della politica e che per questo motivo noi abbiamo il dovere in primo luogo politico di dare un segnale netto. L'ipotesi di riunificare le sedi ha questo potere. Fa sì che si torni ad avere un rapporto credibile e positivo tra la politica, la rappresentanza e i cittadini. Poi il resto verrà dopo e lo decideremo insieme. La crisi finanziaria, oltre a dimostrare la debolezza di buona parte del sistema bancario mondiale, ha messo in luce anche le pratiche poco chiare usate da alcuni istituti per convincere i clienti ad autorizzare operazioni spesso molto rischiose quando non puramente speculative. Il Parlamento europeo ha deciso di intervenire sulla materia con un testo che definisce in maniera precisa tutte le informazioni che le banche dovrebbero dare ai correntisti per permetter loro di decidere in maniera trasparente e completa. Ascoltiamo l'intervento di Antonio Panzeri. I cosiddetti PRIPS sono il cuore del mercato degli investimenti al dettaglio. Essi ricomprendono un'ampia gamma di prodotti stimati nel complesso a circa 10.000 miliardi solo in Europa. Attualmente su questi prodotti di investimento esistono tuttavia vere e proprie assimetrie informative. Le informazioni fornite sono spesso forvianti ed eccessivamente complesse. I rischi e i costi dei vari prodotti sono difficili da valutare o comparare e tutto ciò può creare situazioni difficili in cui i consumatori acquistano prodotti finanziari inadatti con il rischio di dover affrontare costi imprevisti o perdite inattese per arrivare nelle peggiori delle ipotesi a perdere i risparmi di una vita. Si faccia attenzione però. Questa situazione non è solo dannosa per i cittadini in quanto consumatori ma pone seri problemi per la stessa efficienza dei mercati e degli investimenti che rischia delle perdite notevoli in termini di competitività. L'importanza di affrontare tale questione, tra l'altro, è stata chiaramente messa in luce dalla crisi economica e finanziaria attuale. In questa situazione un consumatore che vuole risparmiare o investire per far fronte ai bisogni futuri deve poter accedere a informazioni comprensibili grazie ad un linguaggio chiaro, concentrandosi sulle informazioni chiavi. Deve poter comparare i prodotti differenti di investimento o di risparmio attraverso un quadro armonizzato che preveda l'accesso alle informazioni prima dalla firma del contratto e un regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle norme di questo regolamento. La proposta del regolamento, quindi, è tutto il lavoro che è stato svolto. Ci auguriamo che possano servire a migliorare la trasparenza del settore e ristabilire una fiducia più solida per il futuro. Grazie. Punto Europa termina qui. Io vi do appuntamento alla settimana prossima. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS